Sicuramente ti è capitato di esclamare che posto incantevole, che paradiso! Ecco, immagina per un momento di trovarti in montagna, davanti alle tre cime di Lavaredo in una giornata splendida di sole. O immagina il mare se preferisci. Immagina se ci sei stato una laguna d'Istria, i pini profumatissimi che stendono le radici e i rami sino a sfiorare l'acqua, quell'acqua cristallina che riflette ogni sfumatura dell'infinita bellezza del cielo terzo. Immagina di essere ora in quel pezzo di terra. Non ti sorge nella mente, nel cuore spontaneo e naturale il pensiero che sì, proprio questo è il paradiso? Ecco, quel pezzo di terra che sembra paradiso è nulla in confronto a quello che può essere, anzi, che è già la tua vita, resa bella e unica dal Signore Gesù Cristo, che discende anche oggi dal cielo sul pezzetto di terra dove tu sei ora, che sei tu ora, quello che stai vivendo, la tua famiglia, il tuo lavoro, la salute, la precarietà economica, la realità spirituale. Chi viene dall'alto, dal cielo e al di sopra di tutti è Gesù. E nella Chiesa e per mezzo di lei si sta avvicinando a te e a me che veniamo dalla terra, che apparteniamo alla terra e parliamo così spesso della terra. Si incarna ancora per mezzo dello Spirito Santo la vita di lassù che viene a prendere dimora qua giù, perché è nell'annuncio della parola di Dio, nei sacramenti e nella comunione con i fratelli. E attraverso tutte queste grazie plana sulla tua terra, nella tua vita e in te. E se Dio ci visita con l'amore e il perdono, tutto si ammanta di splendore e bellezza, recita il Salmo. E tutto significa questa terra qui di oggi, non un'altra che vorremmo diventi la nostra vita. Oggi la tua terra, come le tre cime di Lavaredo, come il mare di Istria, con le rocce più impervie e gli orridi più spaventosi, le onde più alte, le tempeste, tutto di noi scolpito e plasmato dall'amore di Dio è trasfigurato nel Paradiso. Perché solo l'amore trasfigura un cancro in un dono da offrire a Dio per la salvezza di chi c'è accanto, come un segno indelebile del cielo. Allora la malattia devastante, la terra più sporca agli occhi di chi mai ha visto il cielo, acquisterà valore inestimabile, perché è quello che ha compiuto Cristo sulla croce, il momento breve ma intenso in cui ci ha salvato, agganciandoci al suo mistero pasquale. Come ha sperimentato e vissuto Chiara Corbello Petrillo, che così scriveva suo figlio Francesco in occasione del suo primo compleanno. Per lui, che portava in grembo, aveva rinunciato a curare il cancro, aveva offerto se stessa sino alla morte. Lo scopo della nostra vita, scriveva, è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri, come solo Dio può insegnarti. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Allora, coraggio, anche tu sei speciale e anche tu hai una missione grande. Appoggiati e credi che il cielo vale la sofferenza della terra e apri il tuo cuore a Cristo, perché prenda dimora in te e trasformi la tua vita in un paradiso.